Fano ha da oggi suo marchio, è stata infatti approvata martedì 26 gennaio la delibera di giunta voluta dall'assessorata al turismo, eventi e manifestazioni che conferisce a Fano il titolo di Città del Carnevale. Abbiamo conferito il titolo alla città di Fano di Fano Città del Carnevale, è un'idea che da un po' di settimane mi è venuta collaborando con gli enti che organizzano il Carnevale e abbiamo individuato insieme il fatto di far respirare l'atmosfera carnevalesca alla città durante tutto l'anno e di dotare la città di segni distintivi importanti. Questo vuol dire avere appunto il marchio Città del Carnevale, promuovere la città come la città del Carnevale, crearci intorno un logo, crearci intorno un merchandising, crearci intorno dei laboratori didattici per le scuole, far uscire dall'anonimato i capannoni dei carri di Carnevale, che vuol dire quindi promuovere il Carnevale tutto l'anno. Mi fa solo immensamente felice perché con questa aggiunta Fano Città del Carnevale si riconosce tutto il lavoro che l'ente carnevalesca lunghi questi decenni ha fatto e ha sostenuto per il Carnevale. Per noi è una grossa iniezione di energie perché vuol dire che la città ancora una volta dimostra il piacere di identificarsi col Carnevale, quindi d'ora in avanti Fano sarà sì la città della fortuna, ma come altre città, Viareggio e Venezia, sarà Fano la città del Carnevale. In tutta la comunicazione spero e in ogni cartello che verrà esposto nel nostro territorio mi auguro che ci sia questo binomio che è reputo vincente e gratificante.